Russia che qui non organizza al meglio questo cambio palla, ma alla fine comunque ne cava fuori qualche cosa sul pallonetto di Varankov. Ha esitato qualcosina, infatti Kurek, nell'andare a prendere questo pallonetto. Rivettiamo qua la giocata e poi si aspettava forse una mano da parte di Gisga. E qui Cesare ha tutto il suo da fare per tenere a bada Einen. Perché se non capisco... Penso sul discorso che era sopra la rete nel momento di cui ha attaccato. Che era dentro i tre metri. Esatto, nel momento... Ecco, rivediamo. Allora, sì, è vero. Appestato. Sì, appestato e poi sì. Assolutamente. Ricordiamo, no? Bisogna... Grazie a tutti.